assistente bagnante assistente bagnante allora se qualcuno mai nella vita fosse in questo momento capitato sul canale qui presente o sul canale di testi senza senso mi ripresento io sono melody di mestiere faccio la cantante anche l'insegnante di canto che questa sera vengano fuori doti particolarmente brillanti in entrambi gli ambiti perché questo canale un po particolare qua si inventano canzoni si inventano partendo da una base presa dalla libreria di youtube e da testi generati automaticamente da questo questo popocchio qua no che vedete qua questa roba questo questa interfaccia un generatore di testi mette insieme delle parole a caso e io ci metto le canzoni perché mi muove la gambetta un po che sto muovendo la gambetta con una ossessa calma ti rilassa ti va tutto bene facciamo un pezzo dai che così io intanto accumulo materiale da spalmarvi su lungo la settimana allora assistente bagnanti ove prima cambiamo cambiamo il background mettiamo una roba tipo qua del tricot un po di lana dei ferri una mezza maglia fatta visto che siamo in periodo chi di voi fa il tricot fa la maglia ho saputo che molti uomini si stanno dedicando questa attività per rilassarsi io non so farla per cui teniamo assistente bagnanti pensavo di aver cambiato già il titolo da generiamo un testo visto che approvatissimo la biscondola ci piace mi piace molto lo biscondola costruire maestro d'asile domani letale lesto necobo dell'ellisse nonostante campare in finire perché ovviamente campare nonostante finisca troppo spesso troppo presto ogni tanto prima assistente bagnanti ove gli pochi media se ti indivia dietro indivia belghericcia davanti lese ieri allora io voglio togliere mediaset e mettere una roba di poche da tipo sostantivo diamo gli pochi in mugnaio e 1 cambiamo qua dimenticare un posato poche mugnaio giungerò anche una strofa mediaset via allora io devo confessare questa cosa è da cinque anni che non ho il televisore ho un televisore ovviamente sul quale guardo del gran streaming serie tv film ma non sono collegata al digitale terrestre né a nessun satellite per cui non vedo la televisione pubblica diciamo e ne sono lieta quello che vedo nei sociali da quello che mi raccontano forse ho fatto un affare allora aggiunto una strofa sì assistente bagnanti ove lunga però è così mazza allora scegliamo una barba un po lunga quando me dovrò togliere della roba questa com'è ma non è estiva c'è una roba un po più questo è proprio a facciamo questo però è fortissimo non è molto estiva come base n'è vero però beaters at the saloon mi diverte molto io direi che a questo punto su questo beaters at the saloon parte una fantastica interpretazione di assistente bagnanti ove assistente bagnanti ove assistente bagna dio lo biscono la costruire maestro da stile ottomani maestro da stile ottomani le tale lesto le copo dell'elise oh nonostante campari finire ogni tanto prima assistente bagnanti ove assistente bagnanti ove lo biscono il sicuro testo di botte Mugnaio, in divia dietro, in divia belga e riccia, davanti e le segnerie, assistente, bagnanti, ove, assistente, bagnanti, ove.